La Ministra oggi si vota per il rinnovo del Consiglio dei Revisori dei Conti all'Ordine dei Medici di Roma, il voto è segreto, però insomma che ordine si aspetta e vorrebbe? Io credo che l'ordine è un compito fondamentale, gli ordini sono interlocutori da sempre del Ministero, rappresentano i medici, gli odontoiatri italiani e con loro vogliamo portare avanti tante battaglie per far sì che la professione sia sempre più attrattiva. Grazie a tutti